Ho scritto al Presidente Malagò circa il fatto che ho preso atto che c'è un progetto, c'è un dossier che parla delle Olimpiadi di Cortina con il Bob di Cortina e ho chiesto semplicemente se ci sono soluzioni alternative delle quali io non sono a conoscenza. La risposta ovviamente è stata di no ma soprattutto giustamente è stato anche sottolineato l'aspetto che andare fuori dai confini nazionali per realizzare parte delle Olimpiadi non rientra nell'obiettivo di fare le Olimpiadi come Italia. Insomma sulla rinnovata pista da Bob di Cortina c'è tutta l'intenzione di andare avanti. La lettera del Presidente Zai al numero uno del CONI Malagò aveva l'obiettivo di fare chiarezza una volta per tutte sull'investimento e sull'attuazione dell'opera a poco più di tre anni dall'evento olimpico. Non un passo indietro ma un time out di fronte anche alle variabili emerse nell'ultimo periodo. Da un lato la protesta crescente di comitati e cittadini dall'altro l'esplosione dei costi della struttura tra energia e caromateriali. Le risorse ricordo che questo cantiere non è finanziato dalla Regione del Veneto, aveva una previsione di 55 milioni che sono lievitati a oltre 80 milioni, forse 85 milioni, dati dal fatto che è stato un incremento delle materie prime come accade per tutti i cantieri. Nel bilancio delle Olimpiadi, ricordiamoci che le università ci parlano di un miliardo di PIL in più, oltre a tutte le ricadute di opere che si faranno. Quindi diciamo che l'operazione va vista nella sua globalità. Numeri quindi che giustificano ancora l'opera e il suo avvio. Ovviamente con il Bob il dottor Sant'Andrea sta andando avanti, quindi ci sarà il progetto di demolizione della vecchia pista, dopodiché la realizzazione di quella nuova. Posizione condivisa anche dalla provincia di Belluno. Un tema che divide, una scelta molto difficile ma che ormai è già stata presa ed è stata condivisa anche dalla provincia di Belluno perché questo è un intervento di riqualificazione di una struttura esistente da un lato, dall'altro perché a Cortina è nato il Bob, quindi ha una tradizione sicuramente importante perché comunque rientra in un progetto di legacy e di sostenibilità ambientale che è quanto richiede il CIO.